Continua il nostro approfondimento sul come meditare all'interno del percorso che prende in considerazione il tema della meditazione in rapporto all'interiorità umana e avendo l'obiettivo di educare la coscienza. Dante Morando, scrittore pedagogista del Novecento e profondo conoscitore del pensiero di Antonio Rosmini, fa da guida il nostro lavoro con il suo volume Studi sulla meditazione e sul valore psicopedagogico pubblicato nel 1955. Dopo aver messo in rilievo i presupposti, i mezzi esterni ed interni, gli argomenti e la tecnica meditativa, nella lezione precedente abbiamo esaminato la formazione di complessi, vale a dire sentimenti e idee che aiutano o impediscono la meditazione, ma anche il ruolo della ragione insieme a quello della fantasia e dell'immaginazione. Analizziamo ora i surrogati della meditazione, vale a dire la ripetizione, l'abitudine e la lettura. Il Morando però non li considera quali sostituti della meditazione, bensì mezzi o sostegni più o meno importanti. Egli infatti specifica come l'atto vivo del meditare, che è sempre un atto personale e che quindi presuppone la presenza continua, vigile e consapevole del soggetto meditante, ha per sua natura una originalità irripetibile e insostituibile. Proprio in quanto il soggetto è coinvolto in modo totale, si determina un'antitesi profonda tra l'atto della meditazione e l'atto meccanico. Perciò, continua il Morando, la meditazione non può essere sostituita da nulla che si presenti con l'aspetto della riproduzione meccanica. Nella tradizione religiosa cristiana vengono consigliate sia la lettura meditata, sia la ripetizione di atti e di formule prefissate. Entrambe hanno certo una valenza educativa, in particolare per chi si avvia alla meditazione, ma i rischi sono tanti. Infatti, precisa anche qui il Morando a riguardo della ripetizione, la pura ripetizione meccanica non ha pertanto valore educativo né valore meditativo. La ripetizione ha però un significato e un'importanza formativa se essa viene intesa nel doppio senso teorico e pratico, da un lato di richiamo riassuntivo e riepilogante dell'essenziale, per procedere oltre, e dall'altro di rinnovazione costante davanti alla mente e alla volontà degli impegni precedentemente assunti. Precisa ancora di più il Morando. È opportuno al nostro intento, quindi cioè la meditazione, sottolineare qui la possibilità di attribuire un'importanza positiva alla ripetizione, anche nel campo educativo e meditativo. Perciò la ripetizione è efficace quando è caratterizzata dalla progressività continua e dallo sforzo personale. In questo caso, sostiene il Morando, non si tratta allora di una ripetizione automatica, che si limita a riprodurre fotograficamente al presente il passato, ma di una riproduzione selettiva che decanta il passato in ciò che ha di essenziale e ne conserva il ricordo, affinché il futuro ne sia durevolmente orientato. Non si tratta, continua Morando, neppure di una semplice riproduzione mnemonica, utile a richiamare semplicemente le riflessioni e gli impegni assunti in precedenza e quasi scolpirli nell'anima. Ma si tratta di riprendere quei principi teoretici e quei proponimenti pratici al doppio fine di acquistarne una persuasione sempre più intima e profonda e di riuscire ad una più completa attuazione. Ciò esige una continua vigilanza personale e un continuo sforzo. Quindi la ripetizione utile alla meditazione implica lo sforzo intellettivo e pratico insieme, che rende gli atti in abitudine. Sottolinea Morando, come da Aristotele in poi, l'abitudine è stata esaltata anche come un utilissimo strumento della vita educativa e morale. Come si ha già avuto modo di dire, la virtù non è un atto così isolato, ma è un abito. E qui il Morando specifica. L'abitudine garantisce la ripetizione di certi atti lodevoli anche nel futuro, perché è legata a complessi e a costellazioni di fatti e di atti psicologici. E perciò lo scopo fondamentale dell'educazione deve essere la formazione di abitudini. Il carattere stesso è in fondo nient'altro che un sistema di abitudini. In questa prospettiva ogni atto non è mai cominciamento assoluto, come dice Morando, perché nel continuum della coscienza non c'è nulla che sia senza connessione con gli altri atti e fatti della coscienza. C'è sempre un prima e un poi rispetto all'atto e c'è sempre una sua derivazione da altri atti e una sua apertura, un suo tendere in diverse direzioni. Da qui l'importanza di ogni singolo atto, non solo nel momento in cui si compie, ma anche per il futuro. Quindi l'abitudine permette l'impegno di energia per un nuovo sforzo e per non cadere nella routine di ripetizioni automatiche e incoscienti, soprattutto. In questa luce una meditazione abitudinaria si spegne sotto la coltre dell'incoscienza. Tuttavia, dice il Morando, l'abitudine al meditare e la meditazione abituale possono assumere un significato positivo. La meditazione quindi abituale indica la tendenza a rendere sistematico l'impiego stesso della meditazione, la quale diventa abituale nel momento in cui si presenta come la guida costante di tutta l'esistenza. Così, afferma il Morando, la consuetudine alla meditazione crea una sempre più perfetta adeguazione tra meditazione e azione, tanto che il meditare diventa una esigenza normale del vivere, indispensabile al controllo di tutte le azioni veramente umane. Non mancano, come già accennato però, i pericoli. L'addormentamento, come dice il Morando, l'addormentamento della meditazione e la presuntuosa sicurezza nell'acquisita facilità automatica di essa. L'abitudine non deve diventare mai una prigione dai cancelli invallicabili. Dice il Morando, anche là dove l'abitudine serve a fissare la direzione di certi atti meno importanti e a permettere ulteriore libertà d'azione, l'abitudine alla meditazione spinge lo spirito di tanto in tanto a controllare, a riesaminare, correggere e potenziare in meglio la regolarità e la validità positiva di quegli atti. Anche però l'automatismo dell'abitudine, sostiene il Morando, non è un guanciale su cui mollamente adagiarsi. Se è esagerato considerare l'abitudine come elemento accessorio della vita spirituale, così anche esagerato, ridurre però la vita ad una pura acquisizione di abitudine, da cui esuli la presenza viva di una libera energia sentimentale, intellettiva e volitiva. L'abitudine dunque è certo un aiuto, un aiuto, un meccanismo psicologico, un supporto importante sia per l'educazione sia per la meditazione. Ma anche la lettura ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. La lettura meditata è uno stimolo efficace alla meditazione e uno strumento utile specialmente per coloro che hanno bisogno di essere avviati e introdotti al meditare. Prendere come riferimento dei testi di autori che hanno scritto le proprie meditazioni però significa rischiare di abituarsi a meditare con la testa degli altri. Vale a dire a non meditare affatto sostiene il Morando e dice vi sono opere religiose e morali dalla Bibbia ai grandi scrittori più recenti che fanno pensare e meditare. Leggerne medoticamente dei passi e fermarsi a riflettere su ciò che si è letto non può che alimentare le proprie attitudini meditative. La lettura consola e conforta stimola aiuta non solo perché offre idee e spunti forse impensati ma perché ci mette in contatto con le grandi anime del passato e riempie la nostra solitudine stabilendo intime e disinteressati legami con ciò che di meglio l'umanità ha prodotto nei secoli. La lettura è così l'esercizio di rifornimento del materiale meditativo e anche la molla che dà energia alle decisioni meditate. La lettura specifica al Morando è altra cosa rispetto però alla meditazione e non può che essere un insufficiente surrogato. Sicuramente la lettura aiuta a meditare e può sostituire la meditazione però solo in certi momenti particolari. Il Morando quindi è chiaro, dice niente può essere un vero surrogato della meditazione. La lettura di un testo esprime ciò che altri hanno fatto e meditato e offre idee e consigli di certo preziosi ma dice il Morando il nostro caso ha qualcosa di esclusivamente nostro intorno a cui dobbiamo essere noi direttamente a pensare e a decidere. In questi termini dobbiamo vedere la particolarità del nostro meditare in quanto ciascuno è il soggetto ma anche l'oggetto dell'attenzione della meditazione. Allo stesso tempo ciascuno ha la necessità non tanto di un testo scritto quanto di una persona capace di accompagnarlo e di guidarlo, di entrare nelle piaghe delle nostre esigenze. Possiamo concludere dicendo che ripetizione, abitudine, lettura, Dante Morando li chiama surrogati della meditazione, intesi non come sostituti ma solo strumenti di aiuto a quell'atto personale in cui l'uomo è coinvolto nella sua totalità e integralità. Nulla e soprattutto nessuno può sostituirlo in quanto la meditazione è attività formativa dell'interiorità ed educativa della coscienza.